Siamo qui per raccogliere le firme, per fare un referendum consultivo sull'euro. Per noi è fondamentale fare questa operazione perché tutta la struttura dell'Europa si è basata sulle banche private che stanno gestendo la moneta. La moneta deve tornare in mano di nuovo al popolo, deve tornare di nuovo in mano ai governi, perché così con questa gestione ci stanno sostanzialmente fregando. Però la cosa fondamentale è che noi vogliamo parlare tutti quanti insieme, ne vogliamo parlare con un referendum consultivo, esattamente come è stato fatto nell'89. Nell'89 è già stato fatto, in realtà per assurdo, se dovessimo fare il referendum e vincere il sì, il governo potrebbe anche non tenerne conto. Ma noi lo vogliamo fare lo stesso perché ne dobbiamo parlare e vogliamo denunciare tutto quello che è stato fatto in Europa a danno dei popoli. Venite a firmare. Grazie. Grazie a tutti.